Dobbiamo finire la responsabilità, non si sa di chiedere la proposta del dirigente, però che con il Consiglio Comunale se ne assuma la responsabilità. Perfetto, grazie. Allora, mettiamo a punto la proposta fatta dalla Consigliere Rousseau, che è molto indicata da 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi, poi con la 42, 43, 44 e 45, 46, 46. Quindi, allora mettiamo a punto chi si alza, chi non trova, chi resta sentito, a trova. Allora, allora, io devi spingere la proposta. Allora, ok. Ok, allora si passa. Allora, adesso, allora, si mette in dentro di cui l'Italia.